La convince questo approccio, Mussi? Sono importanti fatti e, non me ne voglia Salvini, sono importanti anche le parole. Ora, ieri è stata fatta questa conferenza stampa, con cartelli differenziati, diciamo. Mancava il ministro dell'economia, Tria, che per due provvedimenti economici così è una... Manca spesso, Tria. Ma ha spiegato Conte, perché? Sì, una discreta assenza. Voglio anche ricordare, se leggo bene dalle informazioni che abbiamo, che avendo firmato due cambialone nella legge finanziaria, no? 51 miliardi di IVA di sinnescare per il 2020... Pagherò, di cui parlavo con essa. Due cambialone, 51 miliardi. Ho detto, due pagherò, ho detto io. Due pagherò, io ho detto, sul triennio. Che tira sull'economia europea e mondiale, temo che per Salvini e Di Maio entro l'anno la pacchia sia finita, ma... Ah, pure lei con la pacchia. Sì, ma... A me piace il linguaggio imparabile. No, ogni tanto bisogna imparare dai governanti. E dentro questi due provvedimenti, quota 100 e cittadinanza, c'è altri due cambiali. perché ci sono clausole di salvaguardia con riduzione delle prestazioni o tagli ad altri ministeri, sanità, lavoro, nel caso che il budget previsto non sia sufficiente a coprire le domande. La reddita di cittadinanza è una cosa buona. Qui si mettano 6 miliardi, meno dei 10 di Renzi. L'anno prossimo saranno noi. 6 miliardi. Quindi dal punto di vista del sostegno alla domanda, che inesianamente, diciamo, avrà un impatto minore di quello degli 80 euro di Renzi, che erano mirati su tutt'altra platea, diciamo. Ma non è un reddito. Le parole sono importanti. Non è un reddito di cittadinanza. Perché il reddito di cittadinanza e politiche del lavoro sono due cose distinte in tutto il mondo. Sono due cose distinte. Il reddito di cittadinanza ce l'è a prescindere. Le politiche del lavoro si fanno con gli investimenti pubblici. Ma non voglio qui insistere. Il reddito di cittadinanza è quel principio per cui nessuno, in una società democratica e civile, può stare sotto il livello di povertà. Quindi le intenzioni sono buone, ma non ci hanno capito tanto loro, dice lei. Ed è un principio ottimo. Naturalmente, per realizzarlo integralmente con un provvedimento universale, ci vogliono i 50 miliardi che disse un tempo di Maio, poi i 16 che dissero in un altro tempo di Maio, diventati per quest'anno 6, quindi una riduzione drastica, con molti paletti, ma è anche un percorso di guerra, eh, Chico? Sono d'accordo. È un percorso di guerra. Che vuol dire? Non ho capito il percorso di guerra. Perché deve averlo. Beh, sì, dei criteri, delle verifiche, eccetera. Dopodiché uno deve accettare uno, due, tre proposte di lavoro. Tre proposte di lavoro per 5 milioni di persone. Sono 15, abbiamo fatto i conti. Gli occupati in Italia sono 23 milioni? Sì. Qualcosa più dei 20. Beh, la quota 100 farà andare in pensione un po' di persone. E come tu sai farà andare in pensione forse 300 mila e il tasso di sostituzione di chi va in pensione. Perché come dite sempre, Grillo, Dolcet, diciamo, ci sono le macchine, c'è la tecnologia, la sostituzione di uomini con robot, quindi diciamo il fatto che uno esce e uno entra se non fai politiche che creano lavoro... Insomma, i numeri ci dicono che la cosa è molto complicata. Vedremo. Specialmente devi andare poi fuori. Perché per poi al caso... Io non ho capito una cosa. Mi pare che sia complicata, modesta nelle sue dimensioni e che sia difficile che abbia il successo che viene annunciato. Consentuiso. Io sono favorevole a tutti i cittadini. Ma l'abbiamo capito benissimo. Però ci vuole alta tassazione, pugno di... Ancora più alta, Mussi. Per coprire le regi di Lanza, sì. Ci vuole la patrimoniale, ci vuole la patrimoniale... Io gli do una notizia, però. No, devo dare una notizia a Mussi. Ci vuole la patrimoniale comunista. Per quei pochi che in Italia le tasse le pagano, di cui mi onoro di far parte, sono belle altre tasse in Italia. Grazie. Grazie. Grazie.